Andrea Lignani Marchesani, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comune alla città di Castello. Senta, io vorrei fare un passo indietro di due settimane, tre. Questa polemica sulla felpa con saluto romano che ha fatto il giro dei quotidiani e dei social, ma è una burla oppure, consigliere? Allora, io confesso che fare indignare dei soggetti che credono di essere eredi di chissà quale tradizione gloriosa non sono niente, sia perché la tradizione gloriosa non esisteva, quantomeno a queste latitudini, e soprattutto non è che queste cose si trasmettono per diritto ereditario, i partigiani non esistono più. E d'altronde la felpa che ora vi mostrerò non aveva un saluto romano, aveva scritto saluti romani in giallo rosso, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di reato, nessun tipo di problematica. È chiaramente stata indossata per un fatto contingente a città di Castello, per cui si faceva un processo alle idee, non solo quello che è stato fatto il 25 aprile, impedendo di commemorare morti a livello nazionale, ma anche in quel determinato consiglio comunale, di fatto si faceva una sorta di caccia alle streghe per intimidire il presidente della commissione di garanzia, che appunto è dell'opposizione. È una cosa inaccettabile, per quel motivo ho voluto rivendicare l'autonomia e la libertà di pensiero. Io tengo a precisare che l'articolo 21 della Costituzione garantisce libertà di pensiero, che c'è giurisprudenza consolidata, per cui anche l'espressione del saluto romano, se non teso a conculcare le libertà democratiche, non è reato, tanto è vero che ci sono state un sacco di assoluzioni. Trovo risibile che con tutti i problemi che ci sono oggi, questa gente ha da tempo da perdere su queste faccende. Chiaramente deve dare un senso alla loro grama esistenza, devono dare un senso al fatto che esistono ancora politicamente e storicamente, ma appunto io posso guardarli tranquillamente con bonomia, perché le loro critiche non mi fanno né caldo né freddo, né mi faccio intimidire da questo tipo di situazioni. Senta, consigliere, c'è un passaggio di quello che ha detto, che raccolgo. I morti sono morti a prescindere, no? Perché, nonostante siano passati quasi 70 anni, più di 70 anni, mi scusi, ancora c'è questa voglia di dover classificare i morti di serie A con i morti di serie B. La cosa grave è che è passato tanto tempo. Io faccio l'esempio di Via Colvento, il grande capolavoro della cinematografia americana del 1939. Erano passati 70 anni dalla fine della guerra civile, ma solo 60 dalla fine dell'occupazione degli stati confederati. Ecco, quel film narrava l'epopea della confederazione, del sud, dei nemici, degli schiavisti. E nessuno in America ha pensato che quel film doveva essere bandito, perché di fatto narrava l'epopea di una parte dell'America che era stata sconfitta. Che poi era un'America schiavista. In realtà erano schiavisti anche quegli altri, ma questa è un'altra storia. Sarebbe troppo lungo raccontarla. Negli Stati Uniti, che è pure un modello che non amo, già 15 anni dopo la fine della guerra civile c'erano monumenti ai generali confederati. Una cosa normale. Solo in Italia si continua con questa storia, ma si continua da poco tempo. perché, a parte le cose demoniache e repellenti dell'immediato dopoguerra, quando ci furono stragi e rese dei conti che poco avevano a che fare con l'ideologia, in realtà dall'amnistia togliati fino al 1970 non c'era né una damnazio memoria, né la caccia al fascista, né questo tipo di problematiche. Io faccio l'esempio più calzante, quello della famiglia Pavolini. Alessandro Pavolini è stato il segretario del partito fascista repubblicano. Nella dizione storica di oggi, ricordato come il fondatore delle Brigate Nere, un sanguinario ammazzato a dongo e appeso per i piedi a Piazzale Loreto. Ciò nonostante, questo non ha impedito alla famiglia Pavolini di continuare ad essere una famiglia di riferimento di Firenze e dell'Italia intera. Tanto è vero che il figlio del Gerarca è diventato direttore generale dell'Alitalia, per meriti suoi. Il nipote del Gerarca è stato, cioè il cugino del direttore dell'Alitalia, direttore dell'Unità e deputato del Partito Comunista. Ecco, non capisco e nessuno si scandalizza di questo. Invece adesso si va alla ricerca degli eredi, non si può fare questo, non si può fare questo. È una cosa ridicola che deve essere assolutamente messa a tacere. Un'ultima breve domanda. Torniamo indietro. Lei ha parlato, non capisco come mai con tutti i problemi che attanagliano il nostro comune, ma l'Italia intera, oserei dire. Ci soffermiamo, perdiamo tempo su polemiche sterili. Quindi c'è mancanza di progettualità e quindi si cerca di coprire attraverso stelle di polemiche magari qualcosa che non sta andando per il verso giusto, parlo a Città di Castello. Ma credo che sia una cosa un po' differente, perché in realtà chi fa levate di scudi sono dei bigliacchi prima di tutto, perché non hanno mai il coraggio di farlo direttamente in faccia, ma sempre dietro le spalle. Questo è un problema di fondo, ma poi appunto è gente che deve dare un segnale di esistenza. Oggi quel periodo è consegnato alla storia, oggi i veri resistenti non sono certo quelli che hanno la tessera del Lampi, ma sono le famiglie che devono lottare per arrivare alla fine del mese, che forse è un problema più grosso. La mia attività amministrativa, i dati parlano, non parla di queste cose, parla di problemi concreti, dalla strada che non funziona alla recinzione della ferrovia di via Coventri che non va bene, fino alle grandi problematiche delle partecipate, dei grandi eventi che non ci saranno più a Città di Castello. Quindi è un'azione amministrativa. Poi se mi cerca di colpire nel vivo e soprattutto anche la polemica che c'è stata con le signore del Consiglio Comunale, che io ho chiuso per educazione, non certo perché ho chiesto scusa o perché penso di non avere ragione, ma parlare di dipendenze in Consiglio Comunale, quando sappiamo bene che l'incidenza del Comune su queste cose è nulla, perché purtroppo sono state legislazioni nazionali criminali che hanno permesso di riempire i bar di slot machine e quant'altro. E una mia battuta che era ironica, ma che è assolutamente seria, che significa ricreare PIL riaprendo le case chiuse, tassando questo mestiere e mettendolo in sicurezza, nessuno ha fiatato in quel momento, salvo poi due giorni dopo ritrovarmi sul giornale sbattuto con una sorta di mostro che è un misogino, che è contro le donne e quant'altro. Ma dico, vabbè, credo che questi signori dovrebbero prima imparare a fare politica e amministrazione e poi aprire bocca in queste questioni. Mi fa tornare a fare due battute, mi conceda la digressione leggera sulla felpa con i saluti romani. Ma lei è tifoso della Roma? Tifoso della Roma, tra l'altro. Non avevo dubbi. Per motivi familiari, perché mio papà è stato... No, mio papà, perdonate, mio nonno materno è stato fondatore della Roma e presidente di una delle società da cui la Roma ha preso vita nel 1927. Ma a parte questo, questa felpa innocente che vorrei mostrare, non c'è nessun braccio teso, c'è solamente in giallo-rosso questa cosa con scritto appunto saluti romani, ma soprattutto vorrei parlare un attimo della situazione di questa gaggettistica che viene addirittura criminalizzata. C'è in Parlamento una proposta di legge dell'onorevole Fiano che vuole vietare questo tipo di merchandising. Io dico semplicemente una cosa. Il mio amico, purtroppo scomparso, Ferrini, il proprietario di Ferlandia, a Predappio, ha avuto la sua più grande vittoria, purtroppo per lui, il giorno del funerale. Da persona in una città rossa come Predappio, messa ai margini, il fatto che con questo merchandising lui abbia portato e rivitalizzato un commercio che andava oltre il pellegrinaggio storico alla tomba del Duce o folcloristico e ha creato posti di lavoro, ricchezza, indotto. Dicevo, la sua più grande rivincita è che il sindaco del PD di Predappio, quando lui è mancato, ha indetto il lutto cittadino per questa persona, per quanto aveva portato e per quanto aveva dato a Predappio. Evidentemente alcuni soggetti di sinistra, soprattutto della vicina Romagna, sono molto più intelligenti di alcuni soggetti veramente epigoni del nulla che ci sono dalle nostre parti.